Raffica di furti a Barbarano Mossano nella notte tra lunedì e martedì una banda di malviventi ha colpito diverse abitazioni alla ricerca di biciclette, soprattutto costose, provocando soprattutto diversi danni ai garage. Un bottino magro alla fine. Fortunatamente, grazie ad alcune segnalazioni, i carabinieri sono riusciti a mettere in fuga i ladri che hanno poi abbandonato l'area furtiva. Fortunatamente c'è stato il pronto intervento da parte dell'arma dei carabinieri che hanno fatto convogliare qui a Barbarano più pattuglie, si sono visti probabilmente accerchiati, hanno abbandonato l'area furtiva che è stata ritrovata da un cittadino qui nelle vicinanze presso un terreno boschivo, riconsegnata alla polizia locale e riconsegnata ai proprietari. Colpite anche via Carampin, Marinoni e via Vittorio Veneto, l'appello del sindaco è quello di fare attenzione vista la tipologia dei furti. Il consiglio è quello di monitorare anche i garage, la novità di questo momento è che questi malviventi ricercano biciclette di valore, pensate bene, pertanto attenzione anche ai garage.